Marco Giuri, sono qui per il Ponto della San Marco e sono le gare rappresentanti. La nostra azienda si occupa di e-commerce, abbiamo un e-commerce che ormai ha vent'anni, decisamente nel segmento piscina, ledo garden e riscaldamento domestico. Non si finisce mai di imparare. E' un corso fatto molto bene, entra molto nei tecnicismi per cui penso che sia ideale sia per i neofiti che per le persone in un stato più pesato. La profondità, la minuziosità con cui vengono trattati i primi. E' un momento piacevole in confronto con gli altri codini. Grazie a tutti.